italia paese di santi poeti navigatori ma soprattutto paese in cui le persone tendono a non voler sganciare la pecunia se possono avere qualcosa gratis e vi capisco ragazzi capisco assolutamente soprattutto quando si parla di sganciare cifre grosse per acquistare un programma quale fl studio quando si ha le prime armi e non c'è assolutamente problema ecco perché oggi vi farò vedere come creare un bit pulito senza spendere un euro prima cosa da fare è scaricare il mio drum kit free che ho creato apposta per l'occasione e per fare questo video per farlo basta andare sul mio sito web www.chakrabeats.co che è il sito su cui carico tutti i miei beat per gli artisti, per i rapper e in alto troverete la sezione ne sound kits che è dove carico tutti i miei kit andate lì e scaricate il drum kit free che si chiama Zero insieme al drum kit free oggi ho anche caricato il mio nuovo drum kit ufficiale che è quello che ho mostrato in piccola parte nello scorso video per chi fosse alle prime armi vi spiego un secondo cosa cambia tra i due kit il primo kit, quello gratis, è molto flat, molto semplice i suoni all'interno sono molto classici ed è ottimo per iniziare a fare i beat e non va assolutamente sottovalutato mentre il secondo kit, quello a pagamento, contiene ovviamente molti più suoni suoni più ricercati, suoni più elaborati, meno di massa anche perché sono stati tutti quanti creati e modificati da me perciò è molto presente la mia persona, il mio stile diciamo per darvi un'idea all'incirca questo kit l'ho usato per tutti i beat che ho creato negli ultimi due mesi andando sul canale e riascoltando le ultime robe che ho caricato potete farvi un'idea più o meno di come suonano i suoni e a mio avviso è un signor kit molto valido e molto solido e ci sono dentro delle belle cose ciò comunque non toglie assolutamente un cazzo al drum kit free che fidatevi è ottimo e contiene tutto il necessario per creare un buon 50% dei beat che finiscono in cima alle classifiche oggi quindi andate assolutamente tranquilli inoltre in questo video tranquillissimi che useremo solamente il drum kit free e vi faccio vedere un po' che cosa si può creare appunto con quel kit signori cosa faremo oggi? visto che bisogna fare un beat senza spendere un euro userò tutti i plugin stock, i plugin di base di FL Studio in questo video e il drum kit gratis per farvi vedere che non è necessario spendere soldi per poter creare cose decenti e carine allora iniziamo apriamo un plugin a caso come vedete qua su io ho scritto trial version perché appunto non ho mai comprato il programma oggi mi sento particolarmente chitarroso quindi vediamo cosa esce fuori ciao 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 prima melodia all'incirca ciao 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 Tiriamo fuori questo nuovo plugin Che ci dona generosamente Ragazzoni di FLS Guarda sto suonino Ok Niente di che per il momento Però ok Allora cosa io ho fatto Praticamente nulla Perché in realtà Questo è da eliminare Questo è da eliminare Questo è da eliminare Ci ho solamente messo Lui con Meno 12 E the click E un frutto flanger Con un preset a caso Che suonava bene Allora ok Carino Non male Ci serve Un'altra melodia Sopra di lui Sceglieremo Armor Che non l'abbiamo ancora usato Armor Ragazzi Plugin Veramente serio Che sono cose Davvero fighe Però non Lo si usa poco Bro Mi piace Rachel è pulita Allora Innanzitutto si salva Perché se no Ok Al momento del salvataggio Ti dicono Compra questi plugin Ci sta Tu al posto di comprarli Basta che renderizzi I file sotto forma di file audio Se li renderizzi E ce li hai sotto forma di file audio Credo Che Però non ne sono sicuro Che fl Poi nel momento in cui Riapri il progetto Dovrebbe tenerti tutto Ma Non ne sono Propriamente sicuro Allora Signori Vi dirò che Abbiamo una Sort of Melodia Che è Clean A me piace Vediamo che tipo di batteria Ci si può fare sopra Allora Allora Prendiamo lui che è kick pulito Mi ricorda molto Travis questo beat C'è vostra 1, 2, 3 E quindi questo si abbassa di 1, 2, 3 Vedirò batteria on point E si vola Signori ho parlato veramente poco in questo video Però il beat che ci è uscito fuori è carino Io non lo butterei via Spero che vi sia stato d'aiuto Vi lascio in descrizione il sito per scaricare il drum kit In caso siete interessati Vi lascio sempre in descrizione il link per tutti gli altri miei kit Non vi ho chiesto i like Il scorso video aveva fatto tipo 17.000 like Con il 100k via Vi ringrazio veramente tanto per il supporto Sono felice che vi piaccia questo genere di video E continuerò a farli Vi saluto Ci vediamo alla prossima Da Ciacrono è tutto Belli raga Il Ciacrono è un camion di remorche Il Ciacrono è un camion di remorche Deve il cuore Il Ciacrono è un camion di remorche